Molti di voi si chiedono per quale motivo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non voglia farsi rieleggere per un secondo mandato. Il motivo è questo. Il Presidente potrebbe infatti aver iniziato a percepire i sintomi del cosiddetto esaurimento da inno nazionale. E lo sapete perché? Facciamo due brevi conti. A tenerci bassi, il Presidente partecipa ad almeno 5 eventi al giorno in cui viene eseguito l'inno nazionale. In un anno sono 1825 eventi. Moltiplicato per 7 anni, sono 12.775 le volte in cui il nostro Presidente ha dovuto ascoltare l'inno nazionale. È quindi proprio un motivo il motivo per cui questo cristiano, o democristiano, non vuole farsi rieleggere. Siate umani e comprendetelo. Chiaro?